Eccolo, eccolo, io sono barbuto ma non ho la barba Io sono urso e sono urso Io ho i capelli blu Benvenuti in questo nuovo video, oggi faremo una reaction assurda Non so, non so te, ma da quando c'è l'aggiornamento di Whatsapp mi andrà a parlare più veloce Vero, no a me mi piace quando li metto tipo in per due, poi li metto in normale, mi sembra che la gente le paria Valentino Siamo tornati con una reaction ai tiktok, reagiremo ai migliori tiktok dell'ultimo periodo Che sono i nostri? Modestamente Non so se l'avete notato ma Siamo colorati i capelli C'è qualcosa nell'aria Perché? Perché ci siamo colorati i capelli? Perché abbiamo fatto un annuncio incredibile su Instagram, raga E che annuncio, ragazzi? Se barbuto e usso saranno cantanti Super cantanti E non vi dico nient'altro, se volete vedere altro basta che andate su Instagram, mi lasci i profili Andate a vederli perché abbiamo fatto un annuncio incredibile Incredibile Siamo troppo figli No vabbè, però non eravamo già E così un po' di più, no? Siamo delle... Superstar Una boy band Siamo da fucking boy band Delle rockstar Ha 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 Adesso andremo a reagire a dei tiktok Prima di farlo c'è un altro annuncio super importante È incredibile Cioè io oggi vi svelerò un segreto Sei sicuro di volerlo svelare? Lo voglio svelare È un bene per tutti voi Ho scoperto un'applicazione che vi paga per giocare E ecco come facciamo i soldi Dovrei un po' anziché usare le applicazioni per giocarci e basta Ora le potete utilizzare per guadagnarci Cioè voi più giocate più guadagnate L'applicazione è Cash and Hold Quindi la clicchiamo Sta caricando In primo piano ci esce Coin Master Giocandoci guadagnerete mille monete Più giocate più guadagnerete monete Potete convertirle in Cash Malle monete al minuto Al minuto Quindi ogni minuto che giocate Si guadagnano mille monete Poi a voi basta collegare il nostro account di Polo O la vostra carta di credito Solo con l'accesso a me mi hanno regalato 2500 monete Quindi ora iniziamo a giocare Ma quanti cash facciamo Gioca e collezione vai vai Giochiamo Io ce l'ho ed ero fortissimo Però io non guadagnavo Se l'avessi saputo prima Barbuto è un vichingo è barbuto Quindi barbuto Qua si gioca È slot Proprio Gira Attenzione 10.000 È tanto? No abbastanza 80.000 È tanto? Ok allora abbiamo giocato per più di un minuto Qua coin masters Infatti ci ha regalato mille punti Giocato altri giochi a cui giocare Quindi qua ce ne abbiamo un bel po' E ognuno paga in un modo diverso 123 200 Qua su pagamenti voi potete vedere tutte le monete che avete guadagnato Io per ora posso già ritirare Cioè ho giocato da un minuto e posso già ritirare È incredibile Se inviti degli amici guadagnate 250 monete per ogni amico Quindi potete guadagnare l'ultima vita ad un amico Eeeh chi sarà mai stato? Cosa fa? Cosa fa? Cerca anche lui I russi spaccano Quando vedo gli animali su TikTok ho paura No 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 Questo siamo noi bro Questo è uno scherzo uau Non è uno scherzo TikTok Ebbè Ebbè No 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 Eccolo Robert Due Robert No No Ci sono dei video in due poi No Joseph si cagerebbe alla sua morte Solo il prossimo scherzo a fare qualcuno Non ci credo che l'ha fatto davvero Ma scusa era già in macchina Ma è lì eh Sto per me Sì, vabbè, dai, dai È super realistico Sì, sì, questo scherzo è proprio Il vetro ero Eh, in effetti non si vede Sembano una sottilette, bro, ma si vedono lontano un video che sono adesimi A volte quando vedo queste cose non capisco se sono ironici o se li fanno davvero Ma come si vede Oh, 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 bro Chi è che stava riprendendo? No, vabbè, questo che lo sta registrando Ma era da questa parte, bro È tipo fingono di aver fatto un incidente Ma è lunghissimo se ti scassa Ma mi sta incuriosendo però Mi sta incuriosendo di aver fatto un'altra parte di qua Ok, ok Ok, ok Come ando a terminare qui? Ce la fanno? Mi sto incazzando Ma cosa... oh, ma si muove? No, 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 no Mi sei consentendo della reazione Ma quello è che c***o Che c***o Non ci credo, rivoglio due minuti della mia vita. Tutto sto... No! Questo è... Oh, hai lanciato l'azzurro, hai lanciato. Non ho mai chiesto di un'azurro, vabbè. Aiuto, 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 aiuto. Sì, è il mio carico. Scusate, non ho il mio carico. Memo, Romena. C'è la pistola? Sì. Merda. Come la sparava tutti lui? Merda. Sono matto. Lui non sente niente. Un po' come Giuse quando si viene. Che dici? Che cosa devo fare? Che faccio? Memo, lì tira un cartone. No! No! Bellissimo questo. Che stai spaccato. Hey TV, turn off. What the? Wait, you're saying you don't know that your TV's voice is activated? Yes, you can turn it on and off by saying it. Yes, you can. Try it. Say TV, turn on. TV, turn on. Wait for it. Oh! 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 I can't even have told you. Try it again, try it. TV, turn off. See, I told you. All the time you're going to stand it for exactly what you're going to do. Do you want to come out? Oh, fuck. TV, turn off. Do we just hear this? TV, turn off. I broke up your own now. TV, turn off. TV, turn off. No! No way! Sembra vera sta lingua Giuseppe! Mi aspettavo qualcosa tipo che se la attaccasse, che se la tagliasse Ok Nooo ma vabbè Eh perché l'acqua fa sombrare tutta lì È stranissimo No vabbè bellissimo Non sono al nostro livello Ci vediamo ogni giorno con un nuovo video qua su Youtube Ricordatevi di andare sui nostri profili Instagram Perché abbiamo fatto un annuncio super importante Super 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 super